C'è sconcerto a Dolo per quanto accaduto giovedì sera nella frazione di Arino, 800 metri della tenenza dei Carabinieri. Al 10 di via Torre, Pietro Zara, imprenditore nel settore metalmeccanico, 43 anni, è stato vittima di una tentata rapina che ha definito per le modalità cruenta e spropositata. Erano le 8 e mezza di giovedì sera quando Pietro Zara è arrivato a casa dopo il lavoro, ha aperto il cancello, ha parcheggiato l'auto dietro la vettura della moglie ed è stato a quel punto che i due malviventi hanno scavalcato questa recinzione e lo hanno aggredito immobilizzandolo. Mimetica e volto coperto da un passamontagna armati di pistole, i due non hanno impiegato molto a manifestare le proprie intenzioni violente. Due telecamere che sorvegliano la villetta di recentissima realizzazione in cui l'imprenditore abita da qualche mese con la famiglia, moglie e due bimbe di 1 e 5 anni hanno ripreso l'agguato. Pietro Zara non aveva denaro con sé, allora i due hanno iniziato a maneggiare fascette da elettricista col chiaro intento di immobilizzarlo. Volevano chiudermi nel bagagliaio, ci ha detto l'imprenditore, ancora in evidente stato di sciocche che comprensibilmente non vuole mostrarsi alla telecamera. Sul volto un cerotto a coprire la ferita più grave, quella causata dal colpo sferrato dal calcio della stessa pistola che l'ha tenuto in scacco per lunghi interminabili minuti. Poi l'uomo è riuscito a divincolarsi. Da una finestra ho visto mia moglie e le mie figlie davanti al televisore, la porta era chiusa e senza dare le spalle i due malviventi sono scappato in strada fino alla casa di fronte dove, insanguinato, ho chiesto aiuto. È stato a quel punto che i due si sono dileguati facendo perdere le proprie tracce. I carabinieri hanno raccolto elementi utili alle indagini supportate dalle immagini delle telecamere di sicurezza che forse sapranno svelare particolari fondamentali per l'individuazione dei malviventi.